Massimiliano Allegri continua a fare i conti con l'infermeria, si ferma anche Miranem Pjanic. Il bosniaco è stato costretto ad abbandonare il campo all'ottantasettesimo minuto della sfida di National League tra Bosnia e Austria. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro la Spagna. Brutta notizia quindi per il tecnico toscano che probabilmente lo terrà a riposo contro la Spal per preservarlo e non rischiare di perderlo anche per la sfida Champions contro il Valencia. La sessione di mercato invernale è sempre più vicina e il Milan ha iniziato a lavorare per affrontare al meglio. Leonardo e Maldini, oltre che sui colpi in entrata, si stanno concentrando per trovare un giocatore da sacrificare per risolvere sia i problemi di esubero nella rosa spesa, sia per entrare nei parametri del fair play finanziario e non avere più guai con la UEFA. Il primo nome è quello di Ciaranoglu. I rosso-neri per mandarlo via chiedono almeno 24 milioni, cifra che si potrebbe abbassare visto in un ottimo rendimento del turco. Sul centrocampista sono forti le sirene tedesche, precisamente quelle dell'Ipsia e dell'Herta Francoforte. Il secondo nome è quello di Chiesi. Su di lui ci sono i cinesi del Beijing Goun e il Paris Saint Germain. Dopo la scorsa stagione, sembrava dovesse essere uno dei protagonisti di questa Serie A. Invece, complici di infortuni, Diego Perotti finora ha visto il campo solo 118 minuti da inizio stagione, 90 in campionato e 28 in Champions League. La poca presenza ha costretto di Francesco a metterlo ai margini del progetto e della squadra, tanto da ipotizzare una possibile cessione già a gennaio. Sono tanti club sull'argentino, primo su tutti il Boca Junior, dove l'attaccante ha già giocato nel 2014. A confermare l'interesse dei sudamericani ci ha pensato Ugo Perotti, padre di Diego. A mio figlio piacerebbe tornare nel Boca, è in buone condizioni, non stava bene nella sua precedente esperienza, non poteva giocare molto. Andrea Dovizioso non è uscito soddisfatto dalle prove libere del GP di Valencia. Complice alla forte pioggia, il piotato a Ducati non è riuscito a portare a casa dei buoni risultati. Il turno del pomeriggio è stato difficile, più di quello della mattinata. Il grip era davvero poco, in generale comunque non aveva un gran feeling, anche perché quest'anno abbiamo provato poco sull'acqua. Il tempo alla fine non è stato male, ma le sensazioni erano piuttosto brutte. Il romagnolo si è poi soffermato su cosa non ha funzionato. Non riusciva a tenere forte e scorrere bene a centro curva, non riusciva a lasciare i freni e a finire le linee giuste. Questo naturalmente generava problemi anche in uscita di curva, però abbiamo delle idee, a concluso Dovizioso. Vediamo se riusciamo a metterci a posto.